sesto giorno nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen gesù all'anima quando crederai il mondo abbandonato ai prepotenti e ai tiranni e tutto schierato contro la chiesa allora sappi che il trono del mostro è minato e che si dissolve in un baleno per una pietruzza dal monte che lo percuote lasciami fare perché io armonizzo la libertà e le esigenze della divina gloria e lascio il corso agli uomini cattivi per poi trarne la divina gloria anche nel piccolo lo perché certi violenti spariranno dalla sera al mattino e le famiglie riacquisteranno la pace e la prosperità gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà gesù pensaci tu signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu, Signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu, Signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Gesù, pensaci tu, Signore sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie per aver pregato con noi. Dio ti benedica.